Musica Mercoledì 9 marzo, buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con la rassegna stampa. Oggi è giornata di consiglio regionale e in qualche modo questa è davvero una notizia perché proprio oggi alle 10 si attende la relazione della Presidente della Regione Marini sulla vicenda delle nomine della sanità in un clima sicuramente non rasserenato in seno al PD. Ci si attende infatti che dal gruppo De Bocciani possano esserci parole di sfiducia nei confronti della Presidente. Ne sapremo di più nel corso della giornata e poi si parla di donne, ieri era la festa della donna ma il questore Gugliotta di Perugia ha dato notizia di numeri allarmanti relativi a violenze sulle donne, in particolare violenze in ambito familiare. E poi vedremo dai singoli territori c'è maretta, polemica potremmo dire a Perugia su questa rievocazione storica che dovrebbe nascere il prossimo giugno mentre da il territorio spoletino arriva la notizia di una evasione milionaria che è stata scoperta dalla Guardia di Finanza. Vediamo le prime pagine dei quotidiani, evasione da un milione di euro, la finanza scopre un'agenzia di recupero crediti fantasma e lavoratori in nero e poi a Perugia cresce l'esercito dei poveri in aumento le richieste di aiuto raccolte dalla Caritas che apre un nuovo emporio della solidarietà. Ancora da Citerna c'è polemica sulla possibilità che la Madonna di Donatello possa essere trasferita momentaneamente da Citerna a Perugia per una mostra, mentre dai singoli territori Perugia alla Perugina sono iniziate le assemblee dei lavoratori per capire il futuro di questa azienda. PIEGARO troppi morti per tumore partono i primi accertamenti. E poi la nazione nel suo dorso regionale parla di Perugia, meno tasse, tariffe scontate per i rifiuti, le famiglie risparmieranno il 10% e scusate la buona notizia data dal sindaco e dal vice sindaco di Perugia rispettivamente Romizzi e Barelli relativi al 2016. Una storia che per fortuna è finita bene, una bimba di 5 anni ieri mattina è letteralmente fuggita dall'asilo, dalla scuola materna a Casa Castalda. L'ha ritrovata la maestra in un clima ovviamente di apprezzione. E poi Spoleto recupero crediti, l'agenzia evade il fisco, ve lo racconteremo nelle cronache locali. Come dicevamo la crisi politica in regione, la Marini ieri ha disertato il gruppo PD e oggi alle 10 c'è consiglio regionale. Per la cronaca a Perugia, auto in bilico sul New Jersey, traffico in tilt, il tutto è accaduto a Ponte San Giovanni, a città di Castello. Un papà racconta come prevenire l'uso della droga nelle scuole. A Perugia c'è davvero Maretta, città spaccata sulla rievocazione storica del prossimo giugno. Il messaggero poste d'asilo una vita in coda, l'inchiesta con l'Istat che dice che almeno un umbro su due denuncia file di oltre 20 minuti per ritirare la pensione oppure per pagare il ticket al CUP. E poi da Perugia blitz della finanza che chiude una copisteria perché di fatto copiava per intero i libri universitari, dunque evadendo il diritto d'autore. E poi la violenza sulle donne, il questore Gugliotta ieri ha dato dei dati shock, ma anche delle testimonianze proprio di violenze domestiche. Il titolo è evidente. Mio marito mi disse ti accecco con una siringa infetta così non potrai più vedere nostro figlio. Questa è una delle minacce che Gugliotta ha portato all'attenzione dei giornalisti. Ha un evasore totale pignorata, casa milionaria, è accaduto a Spoleto, è stato scoperto dalla Guardia di Finanza, lo leggeremo nelle cronache. Ma c'è anche da dare conto del meteo perché oggi sarà ancora una giornata piovosa. Domani tutto sommato si replica ma da venerdì e nel fine settimana si aprono scenari che vanno verso un inizio di primavera. Mettiamolo così. Oggi dicevamo però le precipitazioni saranno frequenti e avranno anche un carattere nevoso fino a 700 metri. Quindi ombrello e giaccone da portare con sé. Il nuovo Corriere Nazionale nella copertina parla della macro regione del centro che cosa accadrà all'Umbria mentre vedremo in evidenza nel suo dorso regionale dall'Umbria i lavori più richiesti, 50 professioni con più assunzioni. Ovviamente il settore ristorativo la fa da padrone perché si cercano chef ma anche soprattutto camerieri, cuochi, personale addetto alla ristorazione. C'è tuttavia anche richiesta di addetti alle pulizie, manovali, bidelli, operai, addetti alle macchine, confezionatrici e persino camionisti. Questo per le prime pagine scendiamo nel dettaglio con le pagine regionali partendo dal Corriere dell'Umbria che dedica un approfondimento, un focus a l'Umbria delle fiction, Umbria terra di fiction tra business e turismo e ripercorre quelle che sono state le fiction un po' più fortunate dell'Umbria, sicuramente Don Matteo tra Gubbio e Spoleto ma anche per esempio a Città della Pieve e Carabinieri che torna tra le prossime settimane a girare in città. Ma è stato davvero un bel successo anche la fiction sulla vita di Luisa Spagnoli, l'ultima che abbiamo visto in onda. Parliamo poi di arte e cultura perché l'Umbria è una terra di beni culturali che però come un po' in tutta Italia soffrono per la loro manutenzione. Ebbene ieri Maria Romana Picuti, siamo a Foligno, ha presentato la relazione sull'attività svolta dai volontari per sistemare nel 2015, ripulire i beni archeologici della città. Un bel lavoro che è stato reso possibile solo e grazie ai volontari. Ma dicevamo un po' la giornata oggi sarà da un punto di vista politico abbastanza ostica per la Presidente Marini perché è andato all'ortiche anche l'ultimo tentativo di mediazione tra la Presidente Marini e il gruppo De Bocciani. Lo ricordiamo, lo scenario è sempre quello della nomina dei dirigenti della sanità. Oggi c'è Consiglio regionale alle ore 10 e la Marini dovrà porre all'attenzione dell'Assemblea legislativa la presentazione ufficiale dei direttori generali. Non c'è dunque l'accordo con i Bocciani e che cosa si teme? Si teme che proprio in Consiglio qualcuno di questi consiglieri, lo ricordiamo, fanno riferimento a Brega, Porsi, Smacchi, Guasticchi e Barberini, possa di fatto prendere la parola e comunque sia mostrare il proprio netto dissenso. Vedremo come andrà a finire sicuramente una giornata non delle migliori per la Presidente Marini. Ma parliamo di sanità, invece quella vera, quella che forse più interessa ai cittadini, le malattie renali sono in aumento, affetti da malattie renali circa 25 mila umbri. Il dato è stato fornito da Palazzo Donini. Ancora per le notizie di rilievo regionale, in questi giorni di intense piogge, fiumi e torrenti mettono a rischio 82 comuni umbri. Un nuovo rapporto dice che l'Umbria supera la media dei territori a rischio per esondazioni di fiumi, ma non è da bollino rosso come invece accade ad altre regioni italiane. Insomma, stiamo male ma non stiamo peggio, comunque sia il problema c'è. Andiamo alla Nazione per le sue pagine regionali, in particolare l'attenzione qui è rivolta a ciò che ieri ha detto il questore di Perugia, Gugliotta. Ieri era il giorno dedicato alla festa della donna, 8 marzo. Ebbene, proprio in questa giornata si è tenuto il convegno, la polizia con le donne presso la sala del Consiglio Provinciale di Perugia e Gugliotta ha detto impressiona il tasso di violenza contro le donne. C'è anche stata la testimonianza di una vittima che ha detto non perdonate, perché se lui lo fa una volta lo farà per sempre. Ma cos'è che impressiona di più? Gugliotta ha detto impressiona il tasso di violenza che si registra all'interno delle famiglie, un livello di conflittualità familiare straordinariamente alto e poi dà i numeri. Sono state 48 le richieste di aiuto da parte di donne che si sono rivolte alla Polizia di Stato, 38 gli ammonimenti emessi, una decina gli esposti e due gli allontanamenti dalla casa familiare. Dunque sempre più una casa nemica per le donne, sicuramente non il focolare domestico che è nella iconografia, potremmo dire, standard della famiglia. Ma la nazione ovviamente non può non occuparsi anch'essa della vicenda politica che in questi giorni scuote la Regione. La Marini diserta il gruppo PD in aula con il fiato sospeso. Dunque anche qui si riporta la vicenda del Consiglio regionale di quest'oggi. alle ore 10 per la prima volta la Marini sarà seduta sul banco della Giunta regionale, Barberini invece sarà seduto dall'ala opposta. E vedremo come andrà a finire. Questa era la nazione, andiamo al messaggero che nelle sue pagine regionali invece approfondisce quest'altro aspetto attese super per pensioni e ticket. In Umbria i cittadini si lamentano per le file che superano anche i 20 minuti per poter accedere al pagamento della propria pensione oppure al ticket. Il 45,4% degli Umbri denuncia code di oltre 20 minuti agli uffici amministrativi dell'Asle. Il 53,3% agli uffici delle poste. Insomma bisogna armarsi di pazienza. Anche il messaggero ovviamente titola sulle dichiarazioni del questore Gugliotta a violenze familiari, numeri shock, ammonimenti che però risultano essere decisivi. Il questore ha detto che la violenza domestica è un fenomeno persistente ed è diventato una urgenza di primo piano. Questo per il messaggero, uno sguardo al nuovo quotidiano, il nuovo Corriere Nazionale. Nelle pagine dedicate alla Regione si occupa di politica barra sanità. Serve una rientri strategi per il ritorno di Barberini. Oggi il Consiglio Marini riferirà sulle nomine e vedremo come finirà. E poi Sanitopoli. Oggi si discute l'appello. La Procura chiederà la riammissione delle intercettazioni. In primo grado condanne per l'ex Presidente della Regione Lorenzetti e l'ex Assessore Rosi. E poi Università, la battaglia dei precari. Sono circa 70 con il contratto in scadenza, ma il rinnovo per loro è un miraggio. Le pagine locali, ripartendo dal Corriere dell'Umbria, andiamo a Perugia. Sale il grido d'aiuto delle famiglie segnate dalla crisi. Nasce a Perugia un nuovo emporio della Caritas per aiutare le famiglie che davvero non ce la fanno ad arrivare alla fine del mese. Saranno presenti prodotti di prima necessità, ma è allarmante quanto cresce il numero di persone povere. Hanno bussato alla porta del villaggio della Carità quasi 1.600 persone. Intanto ci sono anche i profughi richiedenti asilo, che hanno costituito un'associazione per dare più voce alle proprie richieste. Tutta è ovviamente un'associazione nata per fronteggiare anche le tante difficoltà che incontrano per avere appunto l'asilo. Ancora siamo a Perugia. Vede il ladro armato di mattone dalla finestra della sua abitazione. È accaduto in via Settevalli. Un balordo con in mano un mattone, ovviamente lo voleva utilizzare per rompere un vetro, è stato avvistato dal proprietario dell'abitazione che ha subito chiamato i poliziotti e per fortuna la vicenda è finita con le manette. Fa la gastroscopia e gli trovano ovuli di droga. Allora, la vicenda la ritroveremo anche in altri quotidiani. Qui la leggiamo nelle pagine di Perugia, ma il fatto è avvenuto nel Tifernate. C'è stato il giudizio immediato per un 26enne che appunto grazie alla gastroscopia è stato trovato in possesso all'interno del suo corpo di ovuli di droga. E poi ecco la nuova ordinanza antizzanzare. Multe fino a 500 euro per chi sgarra. Attenzione a Perugia. Per chi volesse mettere delle barattoli secchi, insomma contenitori di qualsiasi dimensione all'esterno delle abitazioni perché se raccolgono acqua piovana possono essere il luogo dove si annidano le zanzare tigre il comune vi può multare anche per 500 euro. Andiamo avanti e siamo ad Assisi dove il vescovo Domenico Sorrentino lo vediamo in questa foto con Papa Francesco in occasione della visita del Papa ad Assisi presenterà martedì prossimo a Roma nella sala della regina della Camera dei Deputati il proprio libro sulla custodia del reato, del creato scusate. E poi a Bastia Umbra il Palio di San Michele entra nelle scuole all'unico protagonista anche quest'anno di una iniziativa ispirata al grande evento e poi forze armate a San Rufino per il giubileo. Ieri ad Assisi la cattedrale era gremita in occasione della celebrazione per l'anno santo della misericordia. Andiamo a Città di Castello, addio alle vecchie scale mobili quelle nuove arriveranno il 20 aprile curiosità e polemiche per il blocco del traffico a Viale Nazario Sauro. Ieri è terminato lo smontaggio delle vecchie scale mobili al rarrivo delle nuove saranno riposizionate negli spazi nel frattempo adeguati verranno anche migliorati i percorsi pedonali. Intanto c'è la denuncia del Movimento 5 Stelle che dice i disabili hanno difficile accesso all'ospedale di Città di Castello e poi una bella notizia per un professionista tifernate si chiama Alessandro Landini e si è classificato al secondo posto al 36esimo concorso internazionale di carving fruit a Marina di Carrara. Bravo lui! Ancora si va verso le elezioni comunali la lista civica cattolica di centrodestra indicherà la sua via alle amministrative nei prossimi giorni. Sempre siamo in Alto Tevere ma ci spostiamo a Citerna dove c'è polemica sull'ipotesi di trasferimento ovviamente momentaneo della Madonna di Donatello a Perugia in vista di una mostra. Il sindaco Falaschi interviene dopo l'alzata di scudi della popolazione che è contraria a questo trasloco. E poi ad Umbertile lettera del Comune al Consiglio di Stato per evitare la chiusura dell'ufficio postale di pregio. Andiamo a Gubbio. A nessuno venga l'idea di eliminare la postazione di 118 nel centro della città e questa l'opinione di Fabio Menichetti rappresentante sindacale della Fissa e poi confronto ieri a tutto campo del sindaco stirati della sua giunta con l'assessore regionale Cecchini. Simone Mengoni è il nuovo segretario dei Giovani Democratici Eugubini e poi nel fine settimana appena trascorso un defibrillatore è stato donato dall'associazione Amici del Cuore nella zona dell'area sud, una di quelle come dire in qualche modo sprovviste il tutto per il progetto Gubbio Città Cardioprotetta. Andiamo avanti e ci spostiamo nel territorio della Fascia perché un sigillano di 40 anni pregiudicato agli arresti domiciliari è evaso dai domiciliari, ha rubato una TV e poi ha cercato di rivenderla ad un commerciante di Gubbio. Il tutto è stato scoperto dai carabinieri che hanno ammanettato il quarantenne e denunciato un sessantenne eugubino per ricettazione di merce rubata. Tre giorni di corso per i migliori specialisti in medicina dello sport è quello che nel fine settimana terrà l'azienda Rocchetta presso il proprio stabilimento e poi ad aprile il via ai lavori della Septempedana questo l'auspicio del sindaco Bontempi a Nocera Umbra che sin da novembre si è mosso con la provincia di Perugia. A Foligno patto tra 20 sindaci per la pista ciclabile che arriva sino al mare dagli Appennini all'Adriatico siglato a Fiastra il protocollo d'intesa che si pone l'obiettivo di sfruttare una rete stradale di 200 km. Verrebbe da dire in attesa della statale 77 che ancora non è completata quantomeno si punta sulla pista ciclabile ma anche per la statale i tempi sono brevi. Dal volontariato un contributo importante per la rinascita dello sportello donna e poi sempre a Foligno il meeting regionale di Giudo ha regalato emozioni un evento promosso dal CSI. Sempre da Foligno i resti di un'antica strada romana affiorano durante gli scavi a Fiamenga le indagini archeologiche regalano anche altre sorprese e la soprintendenza costituisce un'area di tutela indiretta. A Trevi invece ladri ben informati si introducono in un negozio e rubano una preziosa cassetta. Il tutto è accaduto al centro ottico di Borgotrevi. Danza sportiva nel fine settimana appena trascorso si sono tenuti a Foligno i campionati regionali di danza sportiva erano ben mille gli atleti arrivati in città. C'è una polemica anche di sapore Folignate nella vicenda che abbiamo visto a Perugia spacca la cittadinanza tra chi vuole che a Perugia a giugno si tenga una rievocazione quattrocentesca e chi di fatto dice che non serve. Ebbene proprio nei giorni scorsi il professor Giancarlo Baronti aveva bollato come espressione di ostentato provincialismo le rievocazioni storiche dell'Umbria i vi compresa la Quintana. Non si è fatta attendere la risposta del presidente della Quintana, Metelli, che dice a Baronti forse è sfuggito qualcosa venga a Foligno a vedere la giostra della Quintana capirà qualcosa di più nel merito. Leggiamo il titolo di Spoleto perché è un po' uno degli eventi dei casi di cronaca del giorno la finanza scopre un'agenzia fantasma in particolare un professionista di 47 anni era titolare di una piccola agenzia di recupero crediti a Spoleto peccato che è risultato evasore per oltre un milione di euro. Questo per il Corriere dell'Umbria le pagine locali dalla Nazione in particolare le prime due pagine sono dedicate a Perugia e a questa rievocazione storica che spacca la città abbiamo letto che cosa ha detto il professor Baronti anche il professor Bracco si scaglia un po' contro la rievocazione del 400 Bracco dice l'evento è voluto dall'alto non dalla città e chi non approva è considerato nemico l'affermazione è rivolta all'assessore Severini e poi c'è un focus su quali sono le feste dell'Umbria che vengono rievocate e che hanno successo dalla Quintana fino alle Gaite l'Umbria celebra il suo passato intanto l'assessore del comune di Perugia Severini dice stanno già nascendo i comitati dei cinque rioni oggi c'è un convegno che offinsi domenica si va in via dei priori l'argomento è riportato un po' in tutti i quotidiani ma spazio ora alla cronaca finisce a tu per tu con il ladro intenta sfondare la porta di casa lo abbiamo già letto è accaduto in via Settevalli dove il proprietario di una abitazione si è ritrovato davanti un tunisino con in mano un mattone che cercava di sfondare il vetro della propria casa ovviamente il ladro è finito in manette pazienza in bilico auto vola sopra il guardarail questa è la foto di quello che è accaduto ieri a Ponte San Giovanni dove il traffico è rimasto bloccato per ore perché quest'auto è appunto finita sopra in realtà non il guardarail ma sopra il New Jersey se riuscite a vedere la foto è evidente il caos sulla E45 interessata ricordiamo dai lavori a Perugia barelle in corsia all'ospedale problema tutt'altro che risolto lo dice il consigliere comunale del gruppo misto Pittola e poi questa storia per fortuna finita bene che è accaduta a casa Castalda una bimba di 5 anni esce dall'asilo maestre terrorizzate poi la ritrovano il tutto è accaduto per una porta la porta dell'asilo rimasta aperta forse perché qualche genitore uscendo non ha avuto cura di chiuderla fatto sta che una bimba di 5 anni con tanto di grembiolino ha trovato la porta aperta e dunque è andata fuori e ha camminato per qualche metro immaginate il terrore della maestra quando non l'ha più vista sono iniziate le ricerche tutto è finito bene perché la bambina è stata ritrovata in strada camminava tranquilla ovviamente è stata riportata a scuola ma immaginate quanto spavento e poi rifiuti a Perugia ecco quali saranno gli sconti le famiglie risparmieranno il 10% questo l'annuncio dato dalla giunta comunale e ancora Perugia ma per parlare di Perugina con il fiato sul collo della Nestlé iniziano oggi l'assemblea dei lavoratori i sindacati sono in allerta perché l'ipotesi per la Perugina è quella di perdere alcune linee di produzione in particolare quelle legate alle caramelle ma anche al dolciario insomma resterebbe solo il cioccolato andiamo ad Assisi il bilancio previsionale passa ma i malumori politici restano quella approvata un documento preelettorale e questa l'opinione di Patrizia Buini a Bastia dopo il bagno di Folla Cosgarbi a Tu per Tu parla venerdì prossima alle ore 18 alla sala della consulta del comune di Unioni Civili a Gubbio la giunta lo vedete in foto ha incontrato l'assessore regionale Cecchini risorse per valorizzare il centro storico e poi ancora dai carabinieri Gubbio finisce nei guai un sessantenne per ricettazione di merce rubata che gli era stata venduta da un sigillano quarantenne che aveva rubato una tv e poi ieri c'è stata una protesta degli ex dipendenti del giornale dell'Umbria davanti alla sede del gruppo Financo già proprietaria del quotidiano che purtroppo ha chiuso i battenti e poi andiamo a Gualdo Tadino dove Gaia Trionfera questa quindicenne violinista di grande talento si esibirà domani mattina alla Camera dei Deputati Nocera ex Merloni il governo vigila dopo l'interrogazione dell'onorevole Giulietti del PD andiamo a Città di Castello la vicenda dei bocconi avvelenati crea ancora più allarme cani e gatti vittime delle terribili esc killer in particolare dopo essere state avvistate sulle sponde del fiume Tevere ora sono segnalate anche nel quartiere San Pio Decimo dove sono spuntati dei cartelli che avvertono appunto i proprietari di animali di stare attenti per la presenza di esche avvelenate ancora Città di Castello la toccante testimonianza di un padre si chiama Gian Pietro Ghidini dell'associazione EMA papà di Emanuele un ragazzo che nel 2013 è morto annegato in un canale del Bresciano nei pressi della sua abitazione per una pasticca di LSD questo babbo questo papà ieri ha parlato ai ragazzi del liceo Plinio il giovane per spiegare loro perché è stupido usare e fare abuso di droghe ovviamente stupefacenti ma anche alcol scale immobili a Città di Castello la sistemazione vola lo spostamento fa spettacolo questo è uno dei momenti dello spostamento delle vecchie scale immobili e poi ve l'abbiamo già preannunciato qui ve lo raccontiamo nel dettaglio 26 anni in ospedale ovuli di droga nell'addome il fatto è accaduto nel luglio del 2015 ma la vicenda nei suoi dettagli si conosce solamente ora un 26enne del posto Tifernate si era recato all'ospedale di Città di Castello per fare una gastroscopia ben sapendo che nell'addome aveva nascosti ben tre ovuli di droga ovviamente per lui è scattato subito l'arresto in ospedale proprio nel momento in cui sono stati scoperti gli oggetti estranei Montone genesi di un destino la Città celebra e ricorda l'amatissimo storico e scrittore Marco Ruffini a Foligno in attesa della 77 c'è quadriciclo all'Adriatico ci si va in bicicletta una rete di strade partirà da Foligno per arrivare fino all'Adriatico 200 chilometri da vivere tutti in bicicletta tronchi e detritti lungo il topino gli argini non sono sicuri lo dice la Lega Nord questo era la nazione il messaggero per le sue pagine locali da Perugia rifiuti si paga più tardi sconti per 80 mila riduzioni anche del 10% in bolletta per le famiglie e poi abbiamo già letto delle affermazioni del questore Carmelo Gugliotta andiamo in Alta Umbria Gubbio caso profughi la polemica si sposta sulla gestione dei fondi nuova bordata dall'amministrazione comunale dal comitato sull'utilizzo del mezzo milione di euro in arrivo a Casa Castalda ve lo abbiamo già letto una bimba di 5 anni sfugge alle maestre è stata ritrovata in strada ad Umbertide all'azienda giunti più investimenti e lavoro a Città di Castello nuova allarme lo abbiamo già letto per la presenza di bocconi avvelenati lungo il Tevere e sempre a Città di Castello ci sono gli esponenti dei 5 Stelle che segnalano di servizi barriere architettoniche in particolare che limitano l'accesso ai disabili andiamo a Foligno lanciano sacchetti di rifiuti caccia ai teppisti dell'immondizia invece di adeguarsi alle regole della raccolta differenziata questo fanno lo vedete nella foto scienza e filosofia la lezione di Magliani nuovi appuntamenti in vista dell'evento in programma ad aprile e poi amici della musica e grande guerra gli amici della musica di Foligno hanno in programma sabato 12 all'ora 21 all'auditorium San Domenico un concerto con storie della grande guerra e poi la notizia l'abbiamo già in qualche modo letta negli altri quotidiani pignorata la casa di un evasore totale è questo professionista di Spoleto che aveva un'agenzia di recupero crediti ma che ha evaso più di un milione di euro mentre il titolo è davvero inquietante da Spoleto ormai la disoccupazione è diventata una balanga la situazione della zona è tra le più stagnanti dell'Umbria dunque anche lo Spoletino lancia il suo grido di allarme chiudiamo con le cronache locali con il nuovo Corriere Nazionale in particolare le polemiche a Perugia su questa rievocazione Perugia 1416 che non è voluta da parte della città il questore che abbiamo letto tanta violenza in casa nel 2015 emessi ben 38 ammonimenti e poi a città di Castello tassa sui rifiuti sconti in arrivo Goracci bene la lotta all'evasione a Gubbio a Gubbio chieste garanzie per la postazione del 118 e ancora a Gubbio la protesta ieri dei lavoratori del giornale dell'Umbria e poi Bastia 70 nuovi posti auto un parcheggio a servizio di scuola e impianti sportivi ancora dal territorio siamo a Nocera il governo dice che si sta impegnando per la JEP ovvero per il rilancio della ex Merloni mentre da Foligno argini del Topino non ci sono i soldi per sistemarli timoli della Lega mentre la bonifica Umbra spiega quali sono gli interventi in programma ancora da Spoleto disoccupati e inattivi e allarme quasi un abitante su quattro a Spoleto non ha lavoro bene questo per le pagine di cronaca uno sguardo all'economia con il Corriere dell'Umbria che titola da Perugia Perugina pronta a incalzare la RSU l'azienda sul futuro dello stabilimento e poi a Foligno l'appuntamento è per domani giovedì 10 marzo con l'assessore Cecchini l'assessore regionale che alle 17.30 alla sala Fittaioli presenterà i bandi del piano di sviluppo rurale 2014-2020 noi ci fermiamo solo per qualche momento e poi parliamo di sport di sport di sport